che hanno messo in difficoltà la ricezione bianconera, i Brianzoli portano la Sira alla Bella che si giocherà sabato prossimo 13 aprile alle 20.30 al Palabarton. Quarti di finale allungati a gara 3 anche per Trento che dopo aver battuto in casa Padova ha incassato un perentorio 3-0 ieri alla Chioene Arena, soffrendo per l'assenza di Kovacevic. Passano invece direttamente in semifinale Civitanova e Modena che si sono imposte in trasferta entrambe per 3-1 rispettivamente su Milano e Verona. Loro bravi, certo, hanno vinto, sono stati bravi. Noi abbiamo alternato, forse meno buone, io sono un po' arrabbiato perché non siamo partiti con la giusta testa, la giusta determinazione. Queste partite di playoff, fuori cazzo soprattutto, sono difficili, bisogna puntare al meglio e noi probabilmente non eravamo pronti e questo non va assolutamente bene. Adesso abbiamo una partita da giocare mercoledì che sarà dentro fuori e dopo ne abbiamo un altro sabato che sarà dentro fuori e quindi dobbiamo cercare di prepararci al meglio da tutti i punti di vista, dal punto di vista fisico e dal punto di vista mentale. Grazie. Grazie.